Se capitate ad Arona in questi giorni potrete trovare delle ragazze meravigliose con questa maglietta. Chi sono? Sono i volontari del Festival delle Due Rocche. Sono ragazzi meravigliosi, studenti, che hanno messo a disposizione il loro tempo per questa iniziativa culturale meravigliosa. Insieme a questi studenti ci sono dei volontari europei dello SVE, il Servizio Volontariato Europeo, quindi dei ragazzi stranieri che fanno un'esperienza in Italia. In generale la loro presenza è molto significativa perché proprio su gestione di Dacia Maraini abbiamo voluto investire su di loro con un corso di formazione che facesse toccare un po' tutti i campi della cultura, quindi quello che è la fotografia, le riprese, anche gli allestimenti dei palcoscenici. La loro presenza è proprio significativa del pubblico che noi vogliamo per il domani, dei giovani che crescendo si affezionano al teatro, alla cultura e possano dare un significativo apporto al territorio per promuoverlo anche a livello culturale.